In vista delle festività natalizie, i finanzieri della Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza hanno condotto un'importante operazione per garantire la sicurezza dei consumatori sequestrando oltre i 550.000 articoli natalizi non conformi alla normativa vigente tra i prodotti sequestrati, luminarie, giocattoli, decorazioni a tema natalizia risultanti privi delle informazioni obbligatorie previste dalla legge. L'operazione, frutto di una mirata attività investigativa e di un attento controllo del territorio, ha interessato il capoluogo e diversi comuni della provincia. I baschi verdi del gruppo di Cosenza hanno individuato diverse attività commerciali che vendevano prodotti non sicuri. Luminari e natalizie disponibili in varie forme e colori presentavano un rischio concreto di surriscaldamento delle guaine protettive, mettendo in pericolo la sicurezza degli acquirenti. Allo stesso modo i giocattoli privi delle informazioni obbligatorie erano particolarmente insidiose per i bambini, aumentando il rischio di incidenti durante il loro utilizzo. I legali rappresentanti delle due società coinvolte sono stati segnalati all'autorità competenti per le conseguenti violazioni amministrative e la confisca dei prodotti sequestrati. L'intervento delle fiamme gialle è evitato così che i beni potenzialmente pericolosi venissero immessi sul mercato durante uno dei periodi di maggior affluenza negli acquisti.